Coronavirus in Basilicata, nuovo record assoluto dall'inizio della campagna vaccinale, ieri 8.197 somministrazioni. Feste suina africana, brillante dell'Ara, nessun caso in Basilicata, ma è necessario tenere alta la guardia. L'inclusione sport a potenza è il progetto Sitting Volley 2.0. A Matera si chiude la mostra, Almomart Gallery Comeback. Ben ritrovati all'ATRM Giornale, subito in apertura, il punto sulla pandemia in Basilicata. Nuovo record assoluto dall'inizio della campagna vaccinale in Basilicata, con 8.197 somministrazioni in un solo giorno. Crescono anche le prime dosi e le vaccinazioni nella fascia 5-11 anni. Un gran lavoro di squadra, risultato di tutti i lucani, ha commentato il governatore Vito Bardi. Sul fronte dei contagi si registrano 720 nuovi casi su 2.430 tamponi molecolari processati. I ricoverati sono 95, di cui due in terapia intensiva, una al San Carlo e l'altra al Madonna delle Grazie. C'è stato anche il dicesso di un paziente di 79 anni, residente ad Anzi, 285 lucani guariti. Ricordiamo che in linea con la normativa nazionale, il tampone antigenico è stato equiparato a quello molecolare, per cui d'ora in avanti non c'è più bisogno di richiedere un tampone molecolare di conferma per un tampone antigenico. Altre regioni hanno fatto una distinzione tra tampone rapido di seconda e terza generazione. La Basilicata si è allineata alle circolari ministeriali. Intanto è attiva sul portale Covid la procedura riservata a medici di medicina generale e pediatri di libera scelta per il rilascio e l'invio al paziente del certificato di guarigione con relativo Green Pass valido 6 mesi. Dalla piattaforma regionale questi dati saranno accessibili ai cittadini tramite il fascicolo sanitario elettronico. Sull'operato dell'ospedale Madonna delle Grazie di Matera arriva l'elogio di padre Basilio Gavazzeni che in una lettera aperta ha raccontato la sua esperienza. Grazie per la dovizia di farmaci, grazie al personale, talora in affanno ma ineccepibile per igiene e correttezza. Da pochi si potrebbe sollecitare più cortesia e accortezza, tristi e inaccettabili le critiche denigratorie che di tanto in tanto lo investono. Voltiamo pagina PNRR dal Centro Studi di Ricerche Economiche Sociali l'appello alla Regione Basilicata urgenti politiche per il lavoro. La Basilicata verifichi e integri gli interventi che la riguardano e non perda l'occasione del PNRR per utilizzare le risorse da spendere entro il 2026 e quanto afferma Pietro Simonetti del Centro Studi e Ricerche Economiche Sociali in riferimento alla fotografia scattata dal sole 24 ore rispetto alle misure sul 2021 e 2022. 165 i progetti previsti per una spesa di 27,5 miliardi di euro. Si tratta di una occasione importante, dice Simonetti, a partire dalla concretizzazione del piano del lavoro che destina alla Basilicata 50 milioni con il progetto Goal, che prevede una prima tranche di 9 milioni. Manca qualsiasi concretezza al momento per rimettere in campo, portarli al lavoro, recuperarli al lavoro circa 30 mila persone. Leggendo la lingua e vedendo anche altri documenti del governo, la Basilicata è poco presente. È presente nei progetti nazionali ricaduta tipo sistema scolastico per quanto riguarda alcuni master oppure è presente nella realizzazione di interventi nelle scuole per messa in sicurezza e così via, ma sui progetti più importanti, che a questo momento non si segnalano fatti corposi. Anzi, c'è una notizia negativa. La regione Basilicata ha rinunciato, una cosa incredibile, a un progetto di sperimentazione sull'idrogeno per portare avanti il discorso sulla transizione ecologica e così via. Ed ancora alta formazione e rafforzamento delle reti materiali e immateriali ed il sistema produttivo, guardando alle aree industriali, dove, precisa Simonetti, si persegue una pseudo-riforma dei consorsi. L'idea iniziale di questa aggiunta, come quella di prima, era di fare un unico consorso industriale. In effetti oggi ne abbiamo tre. Un pasticcio enorme dal punto di vista delle competenze, delle pratiche e così via. La società, le parti sociali, si interrogano immediatamente su come sopperire a questa situazione. Trasporto pubblico, la denuncia della FIT-CISL serve maggiore chiarezza nella gara che riguarda la città di Potenza. È arrivata l'ora di fare chiarezza. Lo ha sottolineato in una nota la segreteria regionale della FIT-CISL Basilicata in riferimento alla futura gara di appalto che interesserà le sorti del trasporto pubblico della città di Potenza. Commentando il preavviso di gara emanato dalla regione basilicata, il sindacato ha chiesto una maggiore partecipazione delle parti sociali nelle scelte sul futuro del comparto. In particolare, la FIT-CISL ha fatto riferimento ad alcune scelte aziendali che sono state prese negli anni passati e che non hanno soddisfatto i lavoratori, come un'assunzione, nella novembre del 2016, di un impiegato che ha ricoperto una posizione dirigenziale ma che, è sottolineato, non aveva nessuna esperienza né conoscenza della trasporto. Nello stesso anno, hanno evidenziato i dirigenti del sindacato, la società ha elargito ad alcuni lavoratori un aumento contrattuale e normativo a carattere fiduciario senza nessun avviso ai lavoratori e senza alcuna possibilità per quelli più anziani e qualificati di poter accedere ad un concorso mai emanato. Peste suina africana, brillante dell'Ara, nessun caso registrato in Basilicata ma è necessario tenere alta la guardia. Tre casi in Piemonte e in Liguria, è virale ed endemica in Africa subsahariana, lo è stato anche in Sardegna per alcuni decenni, poi si è riusciti a debellarla. Ora ritorna, colpisce a morte l'animale ma non attacca l'uomo, che comunque può esserne veicolo. Si tratta della peste suina africana e la virus che attacca gli ungulati, cinghiali e maiali. Nessun caso nel territorio lucano ma è importante tenere alta la guardia. Rassicurazioni arrivano sul consumo di carne. La carne che noi oggi utilizziamo, degli animali, dei suini eccetera, è sicura, quindi voglio dire non ha problemi di essere consumata. E questo è importante anche dirlo perché quando si parla di queste cose molto spesso arriva la psicose nei consumatori ed è bene essere chiari fin dall'inizio. Il maggior pericolo arriva dai cinghiali che in quanto specie selvatica e in continua proliferazione possono essere l'aveicolo maggiore di trasmissione. Intanto come proteggere gli allevamenti? È consigliata la doppia recensione in modo che ci sia una sicurezza ulteriore rafforzata, usare abbigliamento monouso, pulizia continuo oltre che delle mani, in questo caso dei calzari, non fare entrare anche le stesse automezzi che vengono semmai da un altro allevamento. Comunque se devono entrare c'è un sistema di disinfezione continua. Sono una serie di norme che permettono di tutelarci e di tutelare gli allevamenti a non rischiare che questa infezione possa essere propagata nello stesso allevamento. Inclusione e sport a potenza il progetto Sitting Volley 2.0 A battere barriere attraverso la pratica sportiva, nel segno della socialità e accoglienza dell'altro, a potenza obiettivo centrato per il progetto Sitting Volley 2.0, promosso dall'associazione Calos attraverso un bando del comune capoluogo. Nella palestra, messa a disposizione dell'istituto comprensivo Domenico Savio, ragazzi dagli 11 ai 17 anni sono stati coinvolti in attività motorie, tra gli altri persone con sindrome di Down, ospiti di case famiglia o con disabilità intellettivo-relazionale. Per diverse settimane e fino allo scorso dicembre, tutti insieme hanno dato vita ad una modalità innovativa del tradizionale Sitting Volley, grazie al supporto di esperti volontari, tra gli altri l'ex giocatrice di volley Moon Jung Sok, coadiuvata da Pietro Pronesti, Salvatore Sant'Angelo, Luca Cameriero e Anna Vitacca. L'idea progettuale era quella di voler far fare sport a quante più persone possibili, prendendo come spunto di riferimento uno sport già di per sé inclusivo. I ragazzi diversamente abili sono stati messi a confronto con persone che hanno difficoltà ad accedere all'attività sportiva, come i ragazzi dei centri alloggio, delle case famiglie. Una volta messi in campo, una volta cambiata la prospettiva, seduti per terra, quindi un contatto con il suolo, c'è stata una sinergia che si è sviluppata tra questi ragazzi. La cosa bella è stata vedere ragazzi delle case famiglie, ragazzi con difficoltà anche economiche, mettersi proprio a confronto e aiutare lo svolgimento di questa attività per questi due mesi. La volontà emerso è di proseguire fino al prossimo giugno e creare una vera e propria squadra per confrontarsi in tutta Italia. Devo dire che l'assessorato alle politiche sociali, l'assessorato allo sport ci è stato vicino, anzi abbiamo intenzione di andare avanti fino al 30 giugno di quest'anno. L'idea, se ci fosse qualche imprenditore coraggioso, è quella di presentare la prima squadra di sitting volley a livello nazionale e far rifare il campionato nazionale di sitting volley. Il Potenza Calcio è al lavoro per iniziare la missione salvezza nel campionato di Serie C dopo l'ultima conferenza stampa societaria indetta dal presidente Caiata insieme ai referenti dell'Associazione di Imprenditori Potenza 1919 dettagliato l'impegno per rinforzare l'organico a disposizione del mister Trocini e la volontà di perseguire nel progetto delle onerampante. Proprio sul frontemercato, da alcuni giorni arrivati Jadak e Zampano, il primo classe 2000 olandese nel ruolo di terzino sinistro, l'altro terzino destro classe 93. Importanti le ultime operazioni, dal Frosinone Calcio arrivato in prestito fino al 30 giugno il difensore centrale del 99 Koblar acquistato dall'Avello, l'attaccante 2002 Burzio e dal Mantua il centrocampista Bucolo già in rosso-blu nella passata stagione. Il Potenza tornerà in campo domenica 23 gennaio per la ventitresima giornata quando sarà impegnato in trasferta nello scontro diretto a Monterosi obiettivo lasciare la penultima posizione in classifica. Ora a Matera con la chiusura della mostra al Momart Gallery Comeback. Si è chiusa con la presentazione di un catalogo sul progetto di residenza artistica ideato da Raffaele Fiorella la mostra collettiva Comeback a cura dei giovani dell'Accademia di Belle Arti di Bari. A ospitarle l'iniziativa, la Momart Gallery di Matera diretta da Monica Palumbo è trasformatasi per l'occasione in un laboratorio artistico e centro di condivisione e di riflessioni sull'ambiente e sugli abitudini culturali materane. Ad esporre Piero De Palma, Alessia La Stella, Emanuela Noviello, Fabrizio Riccardi, Michela Rondinone ed Esther Santovito. Questa galleria è diventata un laboratorio con degli esiti molto belli e molto suggestivi anche con delle sonorità che si legano bene al luogo, all'ambiente e al fatto che siamo nei sassi. Veramente una delle mostre più belle e più emozionanti che abbiamo avuto in questo periodo. Sono partita dall'idea di voler abitare la mia casa, quindi i miei sassi e sono partita raccogliendo delle pietre e attorcigliandole a uno spago, quindi comunque materiali molto poveri e appunto ho realizzato un video performativo in cui l'ho indossato. Questo è il diario che abbiamo realizzato per il Finissage e che contiene sia i lavori esposti in mostra e sia dei piccoli contributi che i ragazzi hanno scritto durante il periodo di residenza. Quindi a loro gli è stato chiesto di lasciare un piccolo messaggio o delle emotività su carta che poi abbiamo scansionato e inserite all'interno di questo, io lo chiamo gioiello, perché poi in realtà è un, diciamo che quello che poi resta di queste esperienze è questo piccolo libricino che racconta un po' tutto quello che è accaduto durante quei sette giorni nei quali siamo stati qui, ospiti a Matera, ospiti della Momart Gallery. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, arrivederci. Grazie.